Ah, ragazzi, buongiorno. Lo spunto di stamattina me lo dà mio figlio. Torno a casa e lo trovo a giocare con un videogame. Un videogame di wrestling, nella fatespecie questa volta. L'andare è un turbinio di bestemmie e rammarico, parolacce, porca miseria, ma fai questo, fai ma perché non vai così? Allora mi viene in mente una cosa tipica di questi ultimi anni. La corsa a una realtà aumentata, la virtualità che porrà sempre meno limiti alla nostra intelligenza, alla nostra immaginazione. Questo dice lo status quo. Però quel rammarico di mio figlio stamattina mi fa sorgere un dubbio, mi instilla una cimice, nel pensiero libero ovviamente, sapete come sono fatto. La mia sensazione, in altri termini, è che questa corsa al logaritmo, alla compilazione elettronica, alla opportunità barra possibilità di fare sempre meglio con la propria cervice, sempre più coi propri sensi, grazie a meccaniche e compilazioni elettroniche? È una falsità. Ho più che altro la sensazione che tale infrastruttura informatica tecnologica tenderà col tempo più a mortificare le capacità, a svilire le opportunità infinite della mente umana, della percezione umana, della fantasia, della coscienza, il nome di una standardizzazione, con una forte visione in basso, delle cose del mondo, altro che realtà aumentata, realtà mortificata, realtà bloccata in un cliché, possibilità, opportunità di stare sempre più adagiati in una unica scatola di cioccolatini. Eh? Leonardo da Vinci? Sarà Leonardo da Gratta e Vinci. Ciao!